E' stato un vero successo di spettacolo, oltre che di pubblico, l'edizione 2022 del Paglio delle Pupe di Cappelle sul Tavo, tornato in presenza dopo le restrizioni della pandemia. Ad aggiudicarsi la 47esima edizione è stata la contrada a Bala Lucucchione. Le piazze d'onore invece sono andate alle contradi a Mondalavalle e a Lucquart d'Apite. Per le sfilate delle pupe, che si svolge invece nel pomeriggio, il primo posto è stato assegnato alla contrada a Pitala Coste, davanti alle Marianne e all'Ucrucifis Lucquart d'Apite, al terzo posto ex equa. Ripartire con questa manifestazione dopo i due anni di fermo a causa Covid è stato abbastanza difficoltoso, però grazie all'aiuto del Comune che ci ha aiutato con il loro sostegno e il loro impegno siamo riusciti a riorganizzare questa manifestazione, noi ci abbiamo messo il nostro impegno per vincerla, ci siamo riusciti e questa è una grandissima cosa. Cosa ha fatto la differenza nella vostra esibizione secondo voi? Penso qualche fuoco diverso dagli altri ed è piaciuto un po' di più, perché tendenzialmente tutte le pupe erano belle, quindi non è che diciamo... però il nostro c'era un tocco in più, come si dice, e forse ci ha aiutato il nostro caro amico Andrea Galassi dall'assù, che era il nostro ballerino che è venuto a mancare un po' di tempo fa e quindi ci ha supportato bene per vincere.